È stato all'epoca un grande stupore perché la musica era stata fino a quel momento soltanto sentita e ascoltata nei teatri. Con questo sistema di meccanizzazione praticamente il teatro si spostava nelle case, si spostava negli ambienti pubblici. Arriva dal Belgio, datata 1880, è senza dubbio una delle macchine musicali automatiche più innovative dell'epoca. Adesso è in esposizione al MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Con questo sistema di meccanizzazione della musica si riesce a riprodurre con una eleganza e con una bontà tutte le note musicali che erano state scritte dai più grandi autori, tipo Strauss, concepito nella meccanica di questa macchina. La macchina musicale, progettata in un'epoca senza corrente elettrica, si avvia inserendo una piccola moneta, insomma uno dei primi prototipi di Jukebox. Questo qui era con 5 centesimi belgi ma poteva funzionare con un centesimo del dollaro oppure della sterlina in Inghilterra e che veniva adattato con il peso e questo poteva suonare per un disco. Qui è una rarissima perché di solito le macchine erano normalmente messe nelle case e che quindi non c'era bisogno del pagamento per l'ascolto. Questo qui invece è stato utilizzato e destinato per un luogo pubblico per cui l'antelitterma del Jukebox è questo. Grazie a tutti.